Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, partiamo subito con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana, traffico regolare su tutta la rete stradale e autostradale della Toscana. Innanzitutto si consiglia prudenza a causa del maltempo con pioggia e vento forte che stanno interessando la tratta peninica della 1 verso Bologna, disagi per vento forte anche in A12 sulla statale 1 Aurelia. Sempre in A1 a causa dell'allerta meteo in vigore dalle 9 di domani 25 dicembre alle 12 del 26 dicembre è chiuso il tratto tra la variante del balico Baccheraia e Rioveggio verso Bologna e tra Rioveggio e Aglio verso Roma. Sulla statale 12 della Betone del Brennero si ricorda che a causa dei lavori di ripristino in seguito ai danni provocati dalla piena del fiume Serchio è chiuso il tratto tra Bagni di Lucca e Borgo Ammozzano. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!